Ciao, ci troviamo in un monolocale al primo piano di uno stabile nel centro di Bologna. All'ingresso si trova subito un letto matrimoniale con un divano e un televisore, mentre più avanti c'è un capiente armadio, una cucina attrezzata e un tavolo. In fondo alla stanza si trova il bagno con una nicchia per la doccia e una finestra su un cortile interno. Questo è lo spazio.